C'è l'altra Europa di Sipras, ma c'è anche l'altra Campania e l'altro meridione di Lello Ferrara. Qual è? Io penso che l'altra Europa e l'altro meridione esistono in quanto riparta una nuova politica. Si ricostruisca una nuova politica, una politica che riesca a rappresentare politicamente la disperazione sociale che c'è nel nostro paese e in Sud Europa in particolare e a rappresentare anche l'impoverimento, i ceti impoveriti dalla crisi negli ultimi 3-4 anni. Questa rappresentanza politica che al momento non c'è perché è divisa tra chi ormai è sistema, è il Partito Democratico ormai sistema e tra chi invece si limita a fare una semplice protesta, una protesta assolutamente sterile. Ecco, tra questi due estremi, tra una protesta sterile e inutile e un partito ormai sistema, bisogna ricostruire una rappresentanza politica di sinistra che faccia riferimento appunto ai ceti che sono stati, alle classi sociali che sono stati più colpiti e che più hanno pagato questa crisi. Io penso che questa lista, se riparta da questa capacità di rappresentanza sociale, può ricostruire la politica e una sana sinistra anche nel nostro paese e nel Sud Europa. Non a caso il leader appunto, è il giovane leader Greg di Siriza che in tre anni ha portato tutta la sinistra. Quindi non è che ha unificato dei pezzetti di sinistra, ma ha ricostruito una nuova sinistra che oggi è quasi al 30% e si pone come forza di governo in Grecia. Questo è il tentativo che ha anche in Italia, attraverso questa fase di passaggio, io la chiamo, di transizione, che si chiama la lista dell'altra Europa, ma che se uscirà bene come noi speriamo dall'elezione, potrà costituire il nucleo fondante generoso, io dico, di costruzione della nuova sinistra. Molto significativa la presenza del segretario regionale FIOM Campano, un modo per dire chi la FIOM sostiene Lello Ferrara? Io penso che in questa lista sono rappresentate tante realtà di movimenti, battaglie sociali, dall'Aquila a Taranto, a Napoli, comitati dell'acqua, e in questo contesto la FIOM con la sua battaglia sulla democrazia e i diritti, in FIAT, a Pomigliano e in tutte le fabbriche italiane, penso che ci sia, proprio come dire, a pien diritto. Ci dica una priorità programmatica che lei porterà avanti per tutta la campagna elettorale. Diritti, diritti, democrazia e lavoro. È, come dire, il campo su cui negli ultimi anni abbiamo dimostrato che si può vincere, anche in questo paese, anche in una fase di recessione economica e di recessione giuridica, la definirei, si può vincere perché ancora abbiamo una carta costituzionale che, come dice Landini, è la via maestra. Landini, è la via maestra. Landini, è la via maestra.